benvenuti all'ottava puntata di antenna sport il podcast sportivo che le manda a dire nel senso che noi siamo sempre molto tranquilli otto puntate oggi è il 6 maggio è lunedì 6 maggio da oggi non si scherza si esce ogni settimana ho un piccolo prologo per tutti quei ragazzi che vanno a scuola oggi il 6 maggio io 22 anni fa andai a scuola il 6 maggio dopo la grande sconfitta celebre e celeberrima dell'Inter per tutti voi ragazzi che state andando a scuola oggi voi ragazzi nero azzurri e ragazze nero azzurre sappiate che noi abbiamo lottato per voi per farvi vivere questi momenti straordinari godetevi tutto quello che c'è da godere in queste straordinarie mattinate di gioia davanti agli altri mettendogli le palle sulla fronte fatelo perché noi abbiamo ancora i segni delle loro i segni di guerra delle battaglie perché la prima puntata da quando il campionato è ufficialmente finito per quel che riguarda la vittoria dello scudetto e i campioni d'Italia sono i ragazzi dell'internazionale futbolista infatti volevo aprire chiedendoti questo parlando di quello l'Inter è il campione d'Italia per la ventesima volta un po' un breve racconto di come è stato andare al derby e vincere la seconda stella in faccia al Milan lunedì sera e ho avuto un problema personale imprescindibile che incredibilmente era lo stesso giorno del derby ah ok infatti era un battesimo la mattina esatto e poi la sera c'era la partita sono riuscito a trovare i biglietti e sono andato è stata una vittoria talmente bella talmente grande che lì per lì era quasi difficile godersela talmente è stata è la più grande sconfitta in casa della storia del Milan credo forse supera anche quella con la Cavese per sicurezza perché comunque perdi lo scudetto al derby a Milan della seconda stella penso che non succederà mai più questa cosa è la seconda stella il Milan è a 19 quindi comunque i nostri tutti veri i vostri col cartone diciamole queste cose che noi a Cologno-Monzese ci teniamo mi hai tolto le parole in bocca? no figurati però chiaramente aver messo la seconda stella per primi motivo di orgoglio e vanto allora adesso si parla a por la tercera come si suol dire si la prossima gara è sulla terza ha fatto ridere Andrea Agnelli che ha fatto quel tweet dicendo che loro avevano vinto nell'82 nell'82 con i numeri romani l'ha scritto poi ma perché? perché vuoi saperlo perché era la terza bottiglia di Sassicaia sì solo quella stava solo bevendo e un po' ubriaco ha pensato di fare questa cosa di mandare questo messaggio alle 4 di notte ma Andrea Agnelli è ancora presidente ma che? lui si era dimesso semiradiato infatti fece quella famosa lettera ma noi ci bastano uno sguardo per riconoscerci in futuro vai vai però effettivamente la Juve l'ha vinta 40 anni in fase è un dato di fatto è un dato di fatto che nel 1982 è la squadra più importante per trofei in Italia in assoluto e adesso l'Inter è dietro è dietro ma inizia la rincorsa e occhio perché nel fanalino di coda nel specchietto retrovisore vedi la Roma che punta se moltiplico per 10 i miei scudetti ne ho meno della Juventus sì è vero questo è un dato di fatto senti momento iconico di questo campionato dell'Inter secondo te momento per te cioè il momento in cui proprio adesso al di là della partita finale momento proprio qual è il momento del campionato adesso per dire il gol del campionato visto che abbiamo parlato ce l'ho dei cugini milanisti ti ricordi il gol di Ambrosini di testa contro la Lazio nel 2003 quello è il gol di quello scudetto del Milan ci sono punizioni di Del Piero che sono momenti Roma-Parma ci sono dei momenti che sono il momento di uno scudetto senza ombra di dubbio il secondo tempo a Roma contro la Roma perché 2-1 della Roma speravo dicessi qualcos'altro però lo incasso 2-1 della Roma che giocava bene con De Rossi al posto di Murigno sotto il diluvio così l'Inter nel secondo tempo è entrata in campo con una serenità impressionante è andata a tagliare proprio è andata a puntare come si fa il più debole che ancora una volta purtroppo è stato proprio lui Karsdorp e così fa così fa una grande squadra prende il più debole e lo bullizza e aver vinto quella partita è stato secondo me il click quello è ovviamente il gol di Bissek col Bologna quello proprio certificato cioè da quel punto cioè tutto questo noi siamo andati a giocare il derby che eravamo molto sopra il Milan però c'era questa cosa che vincere dietro in casa è stato super civile tutto credo che l'ordine generale fra le curve fosse vincetelo pure però state dentro dopo la se siete in curva in curva non scendete a cantare lungo perché quello dice mi batti in casa non mi canti in faccia sennò poi magari sotto la pioggia il buio a Milano c'è uno scambio magari c'è uno scambio pensalo a Roma questa cosa Roma che vince lo scudetto della stella di non so cosa contro la Lazio in casa della Lazio scoppia la guerra civile non riesco non riesco a immaginarlo perché nella Roma nella Lazio sono in zona scudetto da talmente tanto tempo che insomma però questo secondo me è il momento importante davvero del campionato detto questo la figura di merda che abbiamo fatto col Sassuolo ma infatti ti volevo chiedere ma non è che l'internazionale ha detto il presidente ha detto come 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 anzi come 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 visto che sono tornati in B il como è salito in B in A il como viene in A quindi como como non ho idea la figura di merda è stata totale Danfries ha fatto una giocata alla Karsdorp ha perso palla malamente e ha vinto un saluto a mio fratello che aveva connette al fantacalci non l'ha messo e abbiamo perso potevate mandarlo in B e invece gli abbiamo lasciato sei punti qualcuno dice Marotte e Carnevali testimoni di nozze non so se è vicenda comunque c'è dell'amicizia non credo sia quello penso che fossero stracotti nostri allo stesso modo se io rompessi il cazzo con sta roba della Marotta League tutto l'anno come fanno due terzi dei tifosi italiani forse lì direi ah questa la segniamo con la X perché sembra proprio che le abbiamo salvati noi qualcuno ha detto 1 X eh qualcuno ha detto 1 6 punti ci ha fatto il sassuolo vabbè ah scusa dimenticavo un saluto ai ragazzi dell'occasionale un gruppo di 6 persone 5 maschi e una femmina mi pare che si chiamano così l'occasionale che hanno anche un podcast che si chiama Caffè Sconcerto dove parlano della loro passione per il sassuolo mi hanno mandato un messaggio dicendo ma perché tu ti cedi perché non siete niente no scherzo no scherzo senti ti dico una cosa non ve lo lorare perché la gente se la prende con il sassuolo perché per la stessa cosa perché sono deboli non hanno una storia non hanno una tifoseria si dice quando la tua squadra va a giocare a sassuolo sei tu in casa perché loro sono pochi come il Chievo uguale hanno accomodato nella storia ovviamente una serie di partite a fine stagione quindi è più facile con qualcuno ti devi sfogare comunque siamo dei bulli di base però rispetto per i tifosi del sassuolo pochi ma buoni comunque sia se ti fissi a sassuolo ti fissi a sassuolo non ti puoi nascondere quindi non vedo l'ora di incontrare i ragazzi nascondere da chi no da nessuno cioè comunque testa alta arrivano 50.000 napoletani e tu nel tuo stadio a guardia di una fede 10 bandiere 2 tenute da signore sui 60 e 60 quali allora andiamo forza ragazzi che capito arrivano arrivano capito dalla curva sud del Milan in 50 a prendere lo striscione c'è una signora eh cortesemente questo cosa state facendo l'ho cucito io 40 anni fa quando il sassuolo bandito andare allora ha ragione signora rispetto prima di tutto ho il brodo che sta andando fatemi passare eh signora ci deve dare lo striscione capito ma lo striscione è quello fatto di pasta fresca con dentro ero lì l'altro giorno venite a casa vi faccio da mangiare allora ha finito finito tutto e facciare la pace terzo tempo signora posso dire che lei mette lo strutto veramente in una maniera incredibile incredibile vieni qua ti faccio vedere dove lo metto lo strutto oh non hai capito e alla fine abbiamo scopato cioè comunque le emiliane ma stanno fuori di test cioè e allora beh è una regione grandi piaceri ero lì l'altro giorno quindi ero a Modena a un bed and breakfast è stato super bello mi sono innamorato di un bassotto Rudy ciao Rudy può succedere mi hai spezzato il cuore quando sono andato via può succedere i bassotti i bassotti lo fanno comunque grande entusiasmo grande vittoria leggermente scontata lo scudetto speriamo che l'anno prossimo sia un po' più viva la corsa a scudetto no speriamo vinca ancora l'Inter e Juve-Roma sei andato allo stadio Roma-Juve Roma-Juve romantic date con la mia dolce metà siamo andati in tribunale l'hai fatta la sorpresa non l'hai detto che non l'hai detto che chiudi gli occhi tappati le orecchie esatto no intanto ringraziamo ringrazio la S Roma che mi ha trovato i biglietti al photo finish perché non pensavo che sarei stato a Roma poi pensavo che sarei stato a teatro alla fine ho detto per favore a S Roma trovami i due biglietti me li ha trovati dei bei posti in tribuna Tevere come spesso accade contro la Juve in tribuna Tevere ci sono i ragazzi però erano tranquilli c'erano un po' di tanti non tanti molto mimetizzati c'era un ragazzo proprio in primissima fila con una maglia sobria della Juve insieme a altre persone io stavo con la mia ragazza non aveva quella con i pupazzi sulla pancia no madonna bella mezza bella cioè se vuoi vendere tipo in Giappone c'hai tutta una sì la vendono sporca poi di liquami ma che cazzo la maglia indossata dai giocatori della Juve però al posto dei pantaloncini in Giappone la vendi a 400 euro l'una ma non che scherzo la maglia di Juve originale quelle 3-4 volte che l'hanno disegnata bene è storia stupendo bianco e nero questa con i pupazzi ma qual è la motivazione è una roba pediatrica e comunque diceva la mia ragazza no guarda e c'era questo con la maglia della Juve segna la Roma e c'è un gruppo di persone perché nessuno aveva la maglia della Juve c'è un gruppo di persone che non si alza a esultare e io dico a Lucrezia vedi non si sono alzati no le ho detto tipo guarda quelli che non si alzano però l'ho detto normale non volevo dirlo in tono polemico solo che era allo stadio quindi ho detto tipo guarda quelli cioè ero proprio gasato e a fianco a noi c'era un padre un figlio che anche loro mi sono accorto mentre rullavo questa cosa non si erano alzati quindi poi gli ho detto no ragazzi stavo solo spiegando le dinamiche di stadio non volevo fare lo stronzo perché erano un attimo tesi ho detto qua siamo sportivissimi fate come mi pare comunque poi qua vicini a Daniele Tinti nei posti che ti regala perché qua come stadio olimpico pochi posti in Italia sono meno sportivi mi sa che a Lazio Juve di Coppa Italia ha il gol della Juve in Tevere ci sono state delle sultanze giuventine redarguite allora posso sei d'accordo o no con questa cosa perché succede anche a San Siro ovviamente e allo stadio succederà ma allo stadio manco ti fanno entrare ti danno metà dei biglietti quando poi vai in curva che ti esultino in faccia i tifosi avversari bisogna farlo con l'educazione sì ma infatti è bello che comunque sia le persone possano andare allo stadio a vedere la propria squadra e non succede niente come non è successo niente come è stato Lazio Juve che segna quel bellissimo gol no io non so cosa è successo diciamo che poi qua è il podcast del victim blaming però se ti alzi a prendere e stai in mezzo a un settore di tifosi avversari nessuno ti dovrebbe mettere le mani addosso tu non dovresti dire pezzi di merda alle persone ieri invece c'erano dei padri e figli che sono romani e ti fanno Juve se stavano a vedere la Juve la Juve ha segnato hanno fatto tipo sì va bene va benissimo sì ben fatto non sarò certo io non sarò certo io a dire che cazzo state facendo no ho detto beh ragazzi è giusto così ho detto questo ho rosicato come un pazzo però al palo di chiesa al palo di chiesa hanno iniziato ad urlare allora no no costa e merda costa e merda mi pigli il palo anche a quel punto devono morire devono morire no no c'era c'era un bel clima sportivo per una partita del cazzo perché noi a noi ci serviva a vincerla la Roma è stanca è stanca ma ti faccio due minuti sulla Roma vai la Roma è stanca la Roma è stanchissima la Roma ha un problema di riserve cioè vuol dire che devo stare in silenzio e lascio parlare no 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 però adesso al di là della Serie A la Roma è in semifinale di Europa League contro la squadra più in forma d'Europa del mondo con cui però se l'era giocata avesse avuto un attaccante buono non dico due uno la Roma non c'ha le riserve e poi e poi la Roma c'è proprio fisicamente si è fermata al ritorno col Milan quando abbiamo fatto 70 minuti con l'uomo in meno lì proprio sono finite le gambe della Roma quindi colpa dell'arbitro ieri no 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 cioè proprio non sei uno di quelli non c'hai la rosa lunga e i cambi non sono all'altezza dei titolari e c'hai i tre di centrocampo che non li cambi mai ieri Cristante a fine partita gli dovevi metti i pattini perché c'è proprio lo vedevi che stava là che dice madonna Brian ma tu stai combattendo un attacco di panico adesso perché non ce la fa più in tutto questo giovedì dobbiamo andare all'Everkusen 3 a 1 4 a 2 per noi quanto finisce? 1 a 3 4 a 2 e poi supplementare allora non ti dico perché ho delle delle sensazioni soprattutto dopo che ho sentito la conferenza stampa di De Rossi 1 a 3 2 4 quali sono i risultati? no dopo che ho sentito la conferenza stampa di De Rossi ho pensato se io ti fassi per una squadra allenata da una persona che parla così vorrei proprio questo spirito lui ha detto vediamo non è è ovvio grazie al cazzo Brian Everkusen già è forte in contropiede sullo 0 a 0 ma non perdono mai non perdono mai letteralmente mai non perdono mai non perdono mai lo so non perdono mai e quindi 1 a 3 per la Roma e poi ai supplementari esci e questa è proprio la cosa più questa è la cosa peggiore sì sì esatto però intanto 1 a 3 ma se segnano prima loro occhio perché allora 2 a 4 no adesso obiettivamente giovedì è vediamo vediamo è difficilissimo non dico niente io ecco questo ci tengo a dirlo io giovedì tu non l'hai vista l'altro giorno andrò al no perché era il matrimonio di mio fratello ah giusto Ubi Maier non ti puoi vedere le partite quando alle 5 di pomeriggio facevo auguri auguri mi dai la macchina e andava all'olimpico io al matrimonio di Edoardo Ferrario con Filippo Loic che saluto ci giocavamo la Champions contro la Lazio diciamo che sul finale del matrimonio eravamo belli con il cellulare bello teso quando il matrimonio è di tuo fratello sei uno dei testimoni non puoi fare oh cortesemente la mettono è sulla Rai se cortesemente mi mettete uno schermo sto solo io girato verso lo schermo tutti che festeggiano tutti che mangiano e tu da solo col caffè e limoncello di fianco bellissimo matrimonio è stato in Campania perché la moglie di mio fratello è di Torre del Greco a Torre del Greco non ha tutto un altro accento mi so hanno un bel accento torrese non è così tanto però meravigliosa intrappolata tra il golfo di Napoli e il Vesuvio c'è il B&B che se mi giravo dicevo eccolo qua potevo toccarlo con mano hai aperto il corriere quando c'era tutta la roba delle scosse lo sciamo ma il magma è rientrato o meno comunque ormai le notizie i giornali disastro e tutto però se le leggi fermandoti un secondo in più su ogni notizia la fine del mondo è in arrivo è la fine del mondo e sai dove non vuoi pensare è il campione sai dove non vuoi pensare alla fine del mondo quando hai il Vesuvio proprio il cratere a 150 metri da dove dormi ma sono sicuro che perché hanno fatto un bed and breakfast a 150 metri di distanza ti dico ho un bed and breakfast stellare cioè vedi Capri Vesuvio meraviglioso piscina ping pong tutto il tempo pensavo qua è da farci l'asta del fantacalcio tutto il tempo molto romantico il giorno del matrimonio mio fratello cazzo qua ci fai un'asta del fantacalcio atomica perché hanno fatto un bed and breakfast a così poca distanza no ma non è stai scherzando non era così vicino però nel senso alle tue spalle c'è il Vesuvio cioè nel senso Torre del Greco comunque è nel lembo di terra che va tra il mare e il Vesuvio ed è un po' alle pendici della vecchia volpe si è mangiato bene? si è mangiato benissimo strano perché è strano i matrimoni sai che i matrimoni poi si dice ah no si mangia bene si mangia bene ma spesso non è vero che si mangia bene perché è difficile cucinare per tante persone lì si è fatto era a pranzo si è mangiato tantissimo sai il meme abbiamo finito l'ultimo secondo alle sette di sera dopo alle sette è arrivato il secondo secondo mamma mia alle otto di sera abbiamo finito il pranzo abbiamo finito il pranzo alle otto di sera e era tutto buonissimo cioè era tutto buonissimo c'erano proprio le cose che ancora ci penso dico quanto cazzo era buono il pesce ma c'era il complimenti alla signora Assunta che ha fatto tutto lei da sola con una padella gigante alla fine della serata in un'altra stanza ho acceso la televisione sono andato due volte a buttare l'occhio la prima l'occasione mangiata da Smoone la seconda il colpo di testa riaprano e ho detto vabbè ragazzi meglio così che non l'abbia vista saluto mio cugino che invece me l'ha chiamato due giorni prima dicendo senti Daniele ma sto matrimonio è importante se io le sei e mezza a un certo punto ho detto guarda vai 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 ma ci sta ci sta io poi tra l'altro non sapendo come erano i matrimoni giù ho detto ma guarda se te ne vai le sei e mezza sarà tutto finito sei e mezza eravamo al primo mi ha dato una fake news ho detto vabbè ma anche capisco matrimonio del fratello sta sopra partita di calcio sta sopra semifinale di andata quindi tu dici che la Roma esce col Bayern allora se dovessi proprio scommettere ti dicono senti devi scommettere la casa su cosa scommetti la Roma che passa il turno o la Roma che non passa il turno probabilmente lo metterei sulla Roma che non passa il turno posso dire una cosa sincera uno tre e poi purtroppo è supplementare sincera ma se segnano prima loro due quattro sincera sincera io vivendo qua ho un pessimo rapporto col tifo romanista pessimo proprio però ci sono una serie di persone fra cui te la grande Tiziana Traina che saluto Traina non ho idea di come si pronunci i pochissimi altri romanisti per cui la fiducia che genera De Rossi c'è qualcosa sono leggermente combattuto una parte di me spera che il Bayern tracimi vada oltre il limite dall'altra parte dico sai che forse questa storia merita di andare almeno a un altro turno e giocare contro l'Atalanta e perdere in finale con l'Atalanta ci pensavo sempre c'è tipo una lupa tatuata sul petto e il padre che lo uccide a Dublino perché così chiude il grande cerchio quello è incredibile fai la rimuntata poi perdi in finale con l'Atalanta ti butti di sotto ti butti di sotto no però adesso parte le battute c'è questa cosa De Rossi non so c'è qualcosa che dice ha difeso Pioli ha detto una cosa vera sui giornalisti voi non sapete fare il mestiere che è la verità spesso c'è un meme veramente figo c'è un meme sui social soprattutto nella Roma ma non solo perché De Rossi ha anche Luca Maleonte fa delle conferenze stampa della Madonna e quindi hanno iniziato tutti a scriverli che ho capito per fare oh sbaglia la dichiarazione Daniele sbaglia la dichiarazione e quindi adesso sotto ci sono tutte le formule Daniele formazionala uno sbaglio e tutti i giochi di parole Daniele consiglio la panchina del PD a sto punto vatti a prendere vatti a prendere la panchina la panchina del PD la panchina più difficile cioè il Real Madrid è più facile lo United è più facile pagnolada del PD con gli ex giocatori degli anni d'oro Veltroni D'Alema che sono tipo i giocatori di Ferguson degli anni 90 che commentano fanno il podcast eh sì quello è così adesso questa è la realtà se all'Europea va male pagnolada per Elislein Elislein è come si chiama è Moyes deve sostituire Ferguson esatto Atalanta che può passare con Marseille può passare con Marseille cioè può andare in finale bellissimo l'Atalanta gli fa un bucio di quello così al Marseille è tanto più forte anche lì Gasperini lo odia a morte i tifosi dell'Atalanta belli belli tosti ma se lo meriti io Gasperini lo odia a morte ho già spiegato il mio non odio ma lo ribadisco il mio non odio per i tifosi dell'Atalanta che si gemellarono con l'Aquila Rugby l'anno dopo il terremoto e si facevano la trasferta andavano a vedere l'Aquila Rugby e poi riprendevano il Pullman e andavano a vedere l'Atalanta tra l'altro apro una piccola parentesi da ieri torna in Serie A l'Aquila Rugby i ragazzi ce l'hanno fatta vado fuori di testa fermento un'agenziana la beviamo sul Pullman se torna in A e vado fuori di testa fermento un'agenziana la beviamo sul Pullman ma in A non in super in A torna in A contentissimo per i ragazzi quindi anche saluto militare a tutti i miei ex compagni di squadra che hanno giocato fino ad adesso perché smettono adesso quindi onore delle armi c'è tutta una serie di persone con cui giocavo io al rugby a 17 anni che quando l'Aquila Rugby è fallita sono ritornati a giocare il rugby è uno sport molto demanding torna tu a 34 anni comunque con un altro lavoro perché la Serie B di rugby non è che proprio ti ricopra d'oro io sto faticando a tornare in piscina ho fatto 32 vasche l'altro ieri mi sono sentito adesso pensa dei ventenni che nella vita vogliono fare rugby che ti corrono addosso quindi saluto i ragazzi grazie per aver riportato l'Aquila Rugby mi sa che i miei coetanei più o meno molleranno tutti largo ai giovani una storia bellissima c'era da fare un documentario se lo avessi pensato un po' prima era un'altra storia Enrico Artale ragazzo regista che facevamo anche il centro insieme fece un documentario molto bello sull'Aquila Rugby dopo il terremoto straziante perché raccontava di come i ragazzi della squadra hanno continuato a giocare nonostante il terremoto non mi ricordo il titolo scusami Enrico veramente molto bello penso sia disponibile su qualche piattaforma e adesso siamo tornati in Serie A quindi dai forza vecchio cuore nero verde e a proposito di Serie A ieri gli amici milanisti che erano allo stadio mi dicevano che non ricordavano una roba così assurda la curva sud del Milan è uscita tipo a 15 dalla fine infatti non mi ricordo con chi ho avuto questo scambio dicendo sarebbe stato bello andare e essere gli unici due che cantavano sai con chi mio fratello non avevo neanche un dubbio che fosse ragazzi ma non si canta qui forza fuori la voce dai che il Milan ha bisogno di detto questo a parte le stronzate vabbè detto questo tu lo sai che il Milan arriva secondo in Serie A sì tra l'altro uno e due la sì però tipo la Lazio l'anno scorso cioè non gli viene frega niente nessuno è troppo distante al Milan io ti impazzirei per questa cosa durante il fine primo tempo la pausa fanno queste gag tipo la kiss cam in America tipo fanno la kiss cam non la kiss cam però ti inquadrano e tu devi fare così e giochi inquadrano in sud immagino lo facciano i ragazzi le curve non le inquadrano mai in generale come mai come mai come mai non inquadrano una questione politica io ho l'altro cocaina come non ci inquadrano noi ragazzi ho scritto forza Milan con le righe o forza altre squadre e no io se cioè ma ti immagini che tu stai perdendo il derby contro l'Inter seconda stella ti inquadrano e hai un tifoso di fronte a te che fa così e tu sei di fianco ma tu ti tiro un cartone sul fegato lo lasci a terra ma che idea di merda è come quando anche anche quella cosa di sparare le magliette sì me l'hanno entusiasmo capisco che i tifosi molto giovani adesso che ero in Tevere e Bassa c'era Romolo saluto Romolo col cannone che sparava le magliette si fa prima dell'inizio della partita lo fanno e ti dico la verità una volta una volta nella vita che ero in Tevere e Bassa c'era Romolo là che sparava le magliette mi sono alzato ho detto beh se arriva io l'agguanto non è arrivata non è arrivata ma vabbè quello vabbè facciamo ancora ancora ma quella cosa digitale di fare no e poi se la fai a fine primo tempo comunque la tua squadra sotto e ti fanno adesso fai il mangia mangia e c'è Germano Lanzoni il milanese bruttito fra le altre cose che è lo speaker del Milan che lo senti che sta a morire per il milanista proprio e allora forza ragazzi è il momento di acchiappare le bollicine detto questo molti tifosi del Milan sono giustamente furenti per questa roba infatti ieri hanno fatto anche gli striscioni sulla comunicazione della squadra su cosa cazzo stai dicendo cioè comunque è il milan non è una squadra non è il Leeds che andò in semifinale di Champions nel 2000 e sa il cazzo quando è il milan certo e quindi aveva pure vinto delle grandi first division il Leeds quando si chiamava così la prima divisione inglese detto questo ovviamente se ti fai contro a segnatore Teghi il centrodente della nazionale il centrodente della nazionale no perché mi sa che Gianluca Scamacca si sta andando a prendere il posto da titolare eh sì sì oh posso dirti grande Scamacca allora diciamo chiudiamo un po' il capitolo segreale l'Inter è campione d'Italia il Milan è secondo la Juve la Juve in realtà sta là cioè nel senso Juve-Bologna 66-64 come cazzo fa a star lì ancora c'è eh vabbè perché comunque gli altri erano tanto dietro no c'è questa lotta Champions Champions il Bologna oramai secondo me sta abbastanza tranquillo forza Bologna forza ragazzi fin in fondo e poi c'è Roma-Atalanta e Lazio che si litigano il quinto posto l'Atalanta che c'ha questa l'Atalanta c'ha questa partita fantasma con la Fiorentina che recupereranno pare a campionato finito cosa che di un illegale che è più illegale non si può il campionato è finito e poi lo fanno non c'era spazio no lo so lo so lo so sai perché Tifando Roma ha avuto lo stesso problema quella follia con l'Udinese che a noi ci ha fatto pure comodo tornare a Udine vabbè guarda ci hanno detto perché Pereira Pereira puto come dite no scherzo è perché è una pippa allora Uisen il gol che gli ha fatto fare a loro ok aspetto 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 gol dell'Udinese ok ok io guarda quando abbiamo subito quel gol io dicevo è perché lui è della Juve gli hanno detto che non dobbiamo facciamo questo piccolo appunto la costruzione dal basso ha rotti cioè quando gli De Zerbi un po' di tempo fa ha detto ma ormai i tifosi sono abituati a vedere anche l'errore questo non è più un problema sai cos'è un problema enorme quando il difensore perde palla la costruzione dal basso matta detto questo a volte quando è fatta bene non è quando è fatta bene è molto bella e quando la squadra lo fanno bene lo fanno bene più volte di quando lo fanno male devi avere un centravanti che ti bails you out cioè che te stai là e poi dici vabbè vaffanculo la spari su e devi avere il centravanti che la tiene perché alla fine il calcio è rimasto il vecchio sport che piaceva giocare agli inglesi stai là e devi avere una branda gigante che litiga tra due perché i terzini ambidestri non è facile averli non è che tutti hanno il terzino ambidestri che può girarsi da una parte dall'altra no certo Riccarsdorp non ci si può aspettare che faccia un passaggio di due metri col piatto sinistro è impossibile aspettarsi una cosa del genere da un professionista sette anni con la maglia se giochi solo col destro se giochi solo col destro non puoi farlo di sinistro col passaggio cioè se tu non hai il piede l'altro piede mettiti nei panni suoi anche a calciotto lo fai di esterno sì ma allora oppure sai cosa fai la mandi in falla laterale fai qualsiasi cosa tranne dare la palla a Florian Wirth no non era Florian Wirth quello è stato brutto quello è stato brutto lui è stato preso in mezzo tanto gli insulti gli insulti è razzisti esatto che poi insulti Carsdorp e sbagli perché se gli dici devi morire sbagli poi Abram che comunque è rientrato dopo dieci mesi e sta facendo molto male come attaccante però poi va là a fargli è una pippa poi va là a fargli gli insulti razzisti posso permettermi di dirlo no perché Abram secondo me l'anno prossimo è il centravanti della destra Roma beh anche perché Lukaku va Lukaku se ne va secondo me l'anno prossimo l'attacco della Roma per risultare gli ha tirato la maglia Lukaku è sovrappeso beh lui secondo me è uno che se mangia un piatto di pasta poi ci mette tre settimane a farlo sparire anche perché il suo piatto di pasta diciamo tende ad essere una bella insalatona di pasta secondo me Romelu non c'è parliamo della parte della serie A più interessante infatti perché c'è una lotta salvezza clamorosa considerando che noi potevamo sbattere il sassuolo giù potevamo premere il grilletto e invece abbiamo fatto quella scena tipica dei film anni di sempre hollywoodiana cioè la pistola puntata sai perché perché l'anno prossimo l'orienté gioca in nera azzurro ma no c'è ancora c'è ancora frattesi da scontare ah ecco giusto giusto scusa ecco mi stavo pensando giusto c'è frattesi 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 fortissimi sono innamorato perso comunque ci sono sassuolo udinese empoli frosinone cagliari e diciamo anche verona che sono tutti impelagati in una lotta però verona dovrebbe essere più o meno e il cagliari ieri che stava vincendo 1 a 0 e poi Gaetano si è fatto espellere il giorno del suo compleanno beh è stupendo così vai prima al tuo compleanno perché c'è la fanta e i panini boom il cagliari che si deve salvare oh la mamma è arrivato finalmente è arrivato tutti i panini con le bandierine dei vari paesi no e a sto punto chi speriamo che vada giù l'udinese no assolutamente no mi rimangio tutto quello che mi sono detto sull'udinese perché quando Evan Dica pensava di avere un infarto ah certo gli è stato fatto un elettrocardiogramma dai medici non della Roma i medici che erano là che è stato definito preoccupante e è stato chiesto ai tifosi l'udinese di fare silenzio per sentire il battito cardiaco di un giocatore per terra loro sono stati in silenzio ne ha plegato la squadra quindi cioè a parte invertite non sono sicuro che sarebbe successo la stessa cosa all'Olimpico mi viene da pensare di no non credo ma come in tantissimi altri stati d'Italia non sarebbe successo secondo me che De Rossi ha detto non dobbiamo celebrare una cosa che dovrebbe essere normale è vero che dovrebbe essere normale perché si pensava che un giocatore stesse avendo un infarto e quindi il silenzio era dovuto ma io non sono sicuro che quella sia la normalità in altri stati d'Italia secondo me non sarebbe successo compreso l'Olimpico e quindi per una cosa del genere io non voglio che l'udinese vada in Serie B quindi forse a questo giro di giostra toccherebbe all'Empoli hai detto una cosa che ho notato andando a Udina a fare lo spettacolo c'è un'integrazione incredibile perché sono regione di confine sì sì vero comunque Udine se tiri un sasso a terra in Slovenia sì però ho proprio notato la cosa questo hai detto una cosa molto bella integrazione un po' diversa l'anno scorso quando il Napoli vinse lo Scudetto lì ci fu un attimo di integrazione leggermente meno per il discorso che facevamo prima se mi vieni a esultare in faccia a casa mia magari ci sta che rosico poi la violenza non è mai la risposta la violenza non è mai la risposta ma chi siamo noi per fare la morale a chi che sia questo era stato un bel gesto io non mi ero assolutamente reso conto della cosa facciamo una parentesi coppe europee e poi chiudiamo l'argomento calcio certo allora non l'abbiamo già fatta no sulla Roma ok sull'Atalanta ok c'è la Fiorentina che deve andarsi a conquistare la sua meritatissima finale di Conference League si tifa viola in Conference secondo me abbastanza apertamente sarebbe bello se si andassero a riprendere dopo la brutta sconfitta nell'anno scorso e poi c'è la Champions bla 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 non ci interessa niente della competizione più importante del mondo tra virgolette no invece è stato molto importante vedere uscire l'Inter per le altre squadre in Italia è stato un bellissimo mercoledì mattina bravi 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 no scherzo siamo usciti malamente detto questo forza Borussia guarda si tifa BVB ma come dei pazzi impossibile non ti fare Borussia Marco Reus deve perdere un'altra finale anche perché va via adesso ma ma impossibile non ti fare Borussia poi contro il Paris Saint-Germain mamma mia mamma mia ma magari ce la facessi Bayern-Real invece Bayern-Real io tra i due simpatizzo sempre istintivamente Real Madrid sì per Ancelotti sì per Ancelotti ma poi a me Real comunque piace ma sì poi guerre lanciate dalla Spagna contro altri paesi nel novecento zero guerre lanciate dai tedeschi contro altri paesi due esatto quindi gli spagnoli contro loro stessi e ci mancherebbe e ci mancherebbe altro quello lo puoi fare sempre e l'hanno vinta quindi onore onore alla capisetta blanca che comunque Barcellona ci è entrata hanno fatto delle cose tremende hanno fatto delle cose tremende in Catalogna però anche bellissime cose sono nate da quella guerra Guernica non l'avremmo vista non l'avremmo vista esatto Hemingway avrebbe scritto così bene senza vogliamo passare a un altro sport il Messerschmitt sarebbe stato un aereo sviluppato così bene senza quella guerra ti faccio perché perché i tedeschi lo usarono usarono la guerra di Spagna per capire un paio di cose sull'aviazione sì e poi dopo le hanno poi e poi le hanno applicate esatto esatto ti faccio un'altra canzoncina per passare a un altro sport vai sei pronto? vai ah agli internazionali ci vai all'internazionale ci vai tu ti piace? è molto bello perché a questo punto si sono liberati un paio di posti peccato siano due fra i primi tre giocatori del mondo non credo che andrò io di sicuro non andranno i due protagonisti di Challengers non mi ricordo il film di Guadagnino che se a un certo sono andato a Barberini a vederlo perché le sale sei andato? sì bellissimo Barberini rifatto costa tanto però sì però metti la gamba lunga ti sdrai se a un certo punto del film qualcuno nel buio mi avesse tirato una racchettata sulla rotola mentre l'ho stesa e mi fossi fatto male come la protagonista Zendaya che neanche si degna di avere un cognome quando fa un film avrei provato molto dolore ma sicuro più emozioni rispetto a quella porcata di film e non perché il tennis tra l'altro cioè sono pure bravi Brad Gilbert li ha preparati non facile far finta di sembrare i professionisti per nulla detto questo è una rottura di coglioni di una superficialità non l'ho visto di da scalico in modo incredibile e non è neanche segui i film quando vedi una scena un po' uomo da uomo che hai quel brividino che dici dai quando è che finisce questa scena perché mi sto iniziando un attimo sto iniziando a preparare certo quello perché sei omofono esatto sei un ragazzo nato negli anni 80 e ti porti dietro esatto e neanche c'è quel brividio lì cioè sembrava uso le parole di Alice la mia ragazza ha detto un cinepanettone omosessuale ci sono proprio delle gag schiacche sul cazzo che forse posso dire è la nuova frontiera dei cinepanettoni sarebbe stato se ci fosse stato fosse stata una cosa che ha detto lei ma è vera se fosse stato più ironico più divertente ma che sta a dire ma che sta una bomba di quella sarebbe stata una bomba e invece è una merda vedi ero furente e ancora di più perché Yannick Sinner si è fatto male all'anca e non viene non viene all'internazionale peccato perché sognavamo di vedere Yannick all'internazionale e di tirare le monetine all'avversario dagli spalti Alcaraz non ci sarà non ci sarà Sinner avevamo parlato l'anno scorso dei prezzi troppo alti degli internazionali quest'anno ancora più alti e non c'è Yannick Sinner che forse vabbè nel senso sai che c'è ma a Roland Garros pensa di volerci andare c'è l'idea di andare a Roland Garros conta di più è più importante non riuscire a organizzare degli internazionali con gli stadi pieni in un periodo in cui uno dei tre tennisti più forti del mondo è italiano ed è lo sportivo italiano più amato di tutti in questo momento è Yannick Sinner secondo me senza alcun dubbio non c'è nessuno più amato di lui non Paltrinieri non Jacobs non nessuno scamacca gli europei scamacca gli europei quando ci porta sì ecco se l'Italia vince gli europei come sempre ha annullato tutto sono loro i più amati più di tutto ma per adesso nessuno ha più amato gli Yannick Sinner non riuscire a fare degli internazionali d'Italia con con gli gli stadi pieni i palchi pieni mentre gli Yannick Sinner saranno pieni lo stesso ovviamente l'anno scorso non erano pieni l'anno scorso non erano pieni pure di tanto gli ottavi e sedicesimi anche lì Alcaraz quest'anno già sai che non ci sono e gente che si sta già rivendendo i biglietti si proveranno in tutti i modi detto questo la campagna contro i Sinner di novembre sulla Gaza qualcuno l'aveva spinta qualcuno aveva messo i soldi non diciamo chi la mazzoneria la mazzoneria quindi forse questo è stato diciamo chi la fa l'aspetti sì diciamo non sei motivato a partecipare io penso veramente sia fatto male anche per questi giocano tantissime partite quando dovrebbero stare in pausa fanno esibizioni cose sono scelte sono soldi ci mancherebbe altro è giusto spremere è giusto spremersi e però lo sguardo di Sinner quando parlava del dolore a Lanca era pure preoccupato comunque 22 anni farsi male a Lanca poi Lanca è una cosa strana poi lui soprattutto molti giocatori si spaccano quella parte del corpo per comunque forzi molto a proposito di questo ci sarà Nadal per un'altra passo da Dio quello un uomo che il suo corpo l'ha piegato l'ha disintegrato cosa saresti stato disposto a raggiungere per fare così tanto male al tuo corpo nello sport cioè in cosa sareste stato disposto tipo a romperti i tendini da Achille o sbriciarti una spalla per raggiungere quell'assoluta quell'assoluto che ha raggiunto Nadal i 100 metri i piani il ginocchio che finisci ti accasci e stai là che vomiti il rugby il rugby sì per il rugby bellissimo però il rugby mi piace pensare non ti fai male in quel modo invece ti fai male in mille altri modi però sì tu la formula 1 rimani così bloccato il nonno però ha già le mani pronte per il camminatore no non è vero anche lì atletica forse maratona non riusci per alzarti dalla sedia però fai però fai due ore un quarto no fai 1.59 scendi sotto le due ore 1.59 bianco milanese sovrappeso arrivi sigrettina e poi il corpo si dice ma hai mai visto le gambe dei Kenyoti 1.59 le gambe dei Kenyoti non la chiudi la maratona 1.59 quella città vuota no SH sì e Cultra non la chiudi no in Cultra no no perché ci mette tanto ad arrivare in velocità con i semafori con i semafori rossi città bloccata tu in Cultra contro il continente africano col traffico 42 km a Roma in SH non li fai 2 no si li fai non puoi prendere il raccordo bellissimo bellissimo spot per Cultra bellissimissimo che avevi 10 secondi prima di un Kenyota per i gusti Cultra campioni del mondo ma scusa hai speso tipo 120 euro e sigaretta sigaretta a fine con l'intervista la sigaretta e poi schiatto e allora quello si quello bello scusate ascoltatori vi ho tossito le orecchie per una stupida gag però quello si e a proposito per spezzare un attimo si internazionale andremo a vederli ovviamente col cuore e allora a questo punto forse si tifa Rafa Nadal come pazzi assolutamente si è l'ultima volta probabilmente che lo gioca è stato bellissimo a Madrid l'altro giorno sta entrando un po' in forma ma il corpo è il corpo ma anche per un dio come lui guarda un minuto di Nadal che si asciuga i gomiti per il sudore vale il fin di guadagnino per 200 miliardi e detto questo volevo farti questa domanda si ci pensi mai a chi è lo sportivo che si è ritirato che ti manca di più chi è a parte Francesco Totti è Francesco Totti si questa è la controvanda perché ti manca lui come giocava o perché ti manca ti manca come eri tu quando lui allora tutti e due ci stavo pensando anche ieri che comunque adesso ci sono giocatori che cioè tipo ieri a fine primo tempo io devo fare lo psicologo dello sport ha tolto di bala che è questo lo psicologo è questo quali ti manca di più e come mai e boom risolti i problemi capito l'attaccante non segna da 40 giornate tu li fai quale sportivo avresti voluto essere per disintegrare il tuo corpo e lui e poi ti indica in tribuna si tatua LR LFR dot anche dot LFR perché ieri ci pensavo a fine primo tempo è uscito di bala stanchissimo distrutto bisogna fare due a quattro alle percuse in giovedì quindi insomma giusto tutelare Paolo e è uscito e basta cioè al secondo tempo è entrato c'era Zaleschi e ho pensato che da quando non c'è più Totti allo stadio non c'è più la liturgia del capitano perché lui vabbè quando giocava giocava ma alla fine quando lui era sempre infortunato si alzava dalla panchina si alzava dalla panchina e iniziava gli applausi i cori poi entrava il capitano non è che entrava il capitano per la Roma esce oh entra con lui Francesco Dotti oppure il capitano era in campo dovevi sostituire esce il capitano tutti in piedi ad applaudire i cori tutta la liturgia del capitano non c'è più e non c'è più per nessuno cioè adesso si fa oh quando annunciano le squadre l'allenatore Daniele De Rossi però l'ho detto 50 volte perché è l'unico termine la liturgia che c'era per Francesco Totti ti manca quella non c'è più e ieri allo stadio pensavo vedi adesso i giocatori entrano e escono e è la stessa cosa quando c'era lui non era la stessa cosa e poi mi manca vederlo giocare intanto quel padre e figlio giuventini si sono alzati quando usciva di bala figlio di troia bastardo c'erano anche un sacco di stranieri gli occhi erano tutti per Paolo Di Bala erano molto contenti poi sulla nostra fascia di avere Nicola Zaleschi che peraltro ieri non ha manco giocato male però non ti manca cioè ti manca proprio lui non è che dici mi manca lui mi manca come gioca mi manca quelle sensazioni che mi dava guardarlo entra il capitano c'è una punizione da terra il capitano ecco quando faceva col Totti la vita era più bella bello bello giusto a te? Valentino Rossi ah Valentino eh vabbè sì perché Valentino perché adesso c'è odore di sta arrivando l'estate la primavera ormai la saltiamo perché perché non c'è più non c'è più e quindi mi manca c'è quella cosa lì che mettevi Italia 1 alle 2 di pomeriggio in momenti dell'estate non è scandita nulla perché non c'è lo sport non c'è scuola non c'è lavoro non c'è un cazzo Valentino Rossi mi manca c'è quello perché ho visto una foto di lui con Pecco Bagnaia che ho incontrato l'altro giorno ed è ancora come era allora non so che cazzo di patto abbia fatto col diavolo e vedere lui che non invecchia mai e pensare invece allo specchio e ti dici guardati guarda cosa sei lui mi manca un sacco Aprilia Honda quella roba lì sono 20 anni da quando vinse con la Yamaha la prima volta ha detto lui mi manca proprio come italiano campione che guardi dici ah c'è c'è Rossi che corre vabbè dai metti Rossi quella roba lì che è Sinner quello che è l'unico che sta facendo qualcosa di simile strano che tu dica non so che patto abbia fatto col diavolo il patto è stato io per 20 anni rischio la vita ogni giorno tutte le ore e anche quando non lavoro la rischio sempre sulle moto da cross non faccio altro e così forse l'adrenalina ti toglie le rughe dici a lui effettivamente non l'ha fatto invecchiare incredibile di mezz'ora lui sì lui è proprio quello che ci ha pensato e mi manca anche quella parte lì della vita adesso sono più vecchio di lui adesso improvvisamente tu sei più vecchio di Valentino Rossi senti domanda che è stata sollevata sulla chat su una delle mie chat le battute sul cazzo piccolo del brasiliano sono body shaming sul brasil il brasiless è liccato un video di lui che fa l'amore è seria la domanda oppure siamo uomini e sappiamo che quando tu spingi tanto da una parte poi gli altri possono prenderti in giro dall'altra posto il fatto che di solito fra uomini non si scherza mai sulle dimensioni degli altri uomini infatti secondo me Ebony si può dire che è un nazista che è un picchiatore che è un fa era adesso è nella sua fase orso berne la grande casa blu sì certo tanti 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 auguri si possono dire queste cose sì di solito fra uomini su questo non si scherza perché se tu vedi il cazzo di un altro uomo lo devi rispettare no perché lo stai a vedere cioè è duro in che situazione sei certo e adesso nel mondo di only fans e di video che escono su youtube la situazione è quella allora al di là del video che è circolato io non l'ho neanche visto però i meme sono usciti dei meme secondo me se dici il brasiliano c'è il cazzetto sbagli certo perché è un insulto all'aspetto fisico di una persona e sbagli ma i meme quelli con tipo max allegri che esulta e dici di corto muso ma ce l'ho più lungo del brasiliano quello quello mi fa ridere e non è che lo stai prendendo in giro la usi come scusa per fare un meme sulle dimensioni del pene è punching up o punching down se dici oh c'è il cazzetto è punching down a posto il fatto che si può panciare dove cazzo si vuole per ridere soprattutto in una chat io trovo che sarebbe stato da prendere più in giro quando faceva quel cazzo di video da bullo dove si apprendeva quel tipo che suonava al pincio per quello puoi dire sai perché fai così perché cazzo di solito il teorema se stavi là infatti lo dovevi andare bulli scusa ma non hai sentito che bella musica che sta facendo il ragazzo di origine rom ma ti pare ma nel rispetto gli dai un cartone lui sta per te lì ma sopra gli fai braci ma che se siente tenere in casa quello glielo dicono le ragazze ma lui fa only fans adesso mi sa la sua ragazza fa only fans ed è uscito un video quello deve essere un momento strano quando ti metti con una ragazza ma lui penso si sia messo con una ragazza che già però è una cosa che accadrà cioè due si conoscono vanno a casa a cena vanno a far l'amore è tutto bellissimo ma tu non hai capito che lavoro fai ah io sono una creator ah che bello faccio only fans ah e quindi cioè magari ti chiedono una mano per girare cosa fai? secondo me tu devi dire solo pene non faccia va bene in cambio di soldi lo faccio se hai vent'anni poi ti penti cioè la classica cosa è che ti metti con una ragazza che fa contenuti porno perché di questo stiamo parlando only fans non è solo porno ci sono anche contenuti non pornografici però in questo caso contenuti pornografici tu hai vent'anni ti fidanzi con una ragazza dice senti mi dai una mano per un contenuto tu dici sì lo faccio se non mi si vede mai il volto per te lo faccio e a vent'anni pensi che è divertente e a ventiquattro ti penti tantissimo e poi sei vai in terapia e ti vergogni e vuoi che nessuna ragazza con cui esci da quel momento in poi lo sappia perché ti senti un po' male che hai fatto un porno e hai sentimenti molto confusi al riguardo questo secondo me è il percorso che puoi cambia tutto se hai un cazzo enorme imitazione del brasiliano perché a quel punto dici la faccia no e cambia tutto quanto e lì diventa molto divertente minchia questo fa ridere se tu sei un grande imitatore e c'è una minchia che pare uscita da un fiume che è un tributo che fai ai tuoi idoli puoi fare esatto tutti i tuoi idoli imiti la voce di Yannick Sinner con un con il becco di un tucano tra le gambe e poi questo all'ifance da ridere beh minchia questa sarebbe una bellissima gag che fa molto libero il porno di Djokovic parla italiano perfetto c'è una mazza c'è una mazza e come fai a sapere che è proprio lui c'è una raccetta da tennis è la bandiera della Serbia chi altro può essere non può che essere lui il quadrato che è quel pop che stai così durante e praticamente tu ti fai dare soldi da una persona che vuole un po' darsi un tono tipo vannacci vannacci non può avere una minchia gigante se no non fai quel tipo di carriera e non sei quel tipo di personaggio giusto se sei il cazzo grosso non fai se sei il cazzo gigante non sei ambizioso non sei ambizioso questo è un dato di fatto le persone col cazzo gigante sono poco ambiziosi esatto e tu gli dici senti ti sistemo di una cosa ti faccio fare un figurone e crei questa lo imiti perfettamente però la parte divertente non è quando scopi sono le gag che fai prima per far capire che è lui intanto c'è lei che fa generale apri la porta da un ragazzo disabile un ragazzo in carrozzina gli dai una mano gli dice dovrebbero proprio stare in un altro posto cioè fai tutte le cose precise ma io non sono omosessuale e poi generale lei boom scopi e liccato video del generale vannacci lo ricondivide Salvini dicendo è una vergogna che escano queste cose intanto nella preview c'è il cazzo gigante del generale vannacci è l'alfiere della lega all'europea certo c'è anche Salvini nella thumbnail perché non riesce questo cazzo che gli copre l'occhio gigante una vergogna che è suscita la foto del generale vannacci e del suo cazzo gigantesco sinceramente mette paura agli immigrati perché dicono forse in Italia non possiamo andare se hanno il cazzo così grande bene bellissima bellissima cosa spero che Vittorio Pettinato che è un grandissimo imitatore sa beh una manchia così così può farlo no però mi unisce anche nelle battute stupide indiscutibilmente italiana forza azzurri sai chi invece per uno stereotipo penso più per quello è difficile trovare gente non dotata fra loro fra i vari roster che compongono la lega più noiosa fino a questo momento dell'anno cioè l'NBA hai il cazzo lungo perché questa era la domanda iniziale i giocatori NBA i giocatori NBA lo stereotipo vuole ma anche secondo me anche i giocatori bianchi NBA se sei alto due metri è difficile che tu abbia il pene sproporzionato credo credo sai chi ce l'ha veramente lungo Luca Doncic Luca Doncic ha una bella ramazza neanche una mazza ha proprio la scopa quella per pulire le foglie del glicine alla casa al mare Luca Doncic è bello bello carico sono cominciati i playoff NBA non solo sono cominciati siamo finiti il primo turno è finito il primo turno che è stato un primo turno scintillante io ho anche fatto un bracket che è andato tutto benissimo peccato che stanotte Orlando abbia perso gara 7 contro Cleveland un applauso a un italiano vero il grande banchero esatto ti ricordi quando era tutto italiano è italiano e poi ha detto no scelgo team US gli piace la pasta no no ma lui parla italiano sì beh insomma mica tanto banchero quando vuoi venire ospite di Antenna Sport sei padrone di casa lui sarebbe bellissimo da avere purtroppo Orlando è uscita grande performance di Donovan Mitchell adesso rimangono cioè ci sono da giocare Thunder Mavericks Timberwolves Nuggets dove io avevo previsto una vittoria dei Nuggets e invece in gara 1 a Denver Minnesota ha vinto perché Anthony Edwards si è mascherato da Michael Jordan e in questi playoff non lo ferma nessuno e Rudy Gobert Rudy Gobert è il peggior mismatch per Jokic per Jokic secondo te questo lo so io o me l'ha detto l'amico fratelli Flagelli ieri in uno dei 12 vocali che mi ha mandato è stato proprio lui ma io tra l'altro nell'audio del bracket che trovate sull'Instagram di Antenna Sport seguite Antenna Sport grazie Joe per averlo montato dicevo forse Gobert riuscirà a fermare Jokic assolutamente no e invece in gara 1 a Denver per ora è successo però io è lunga la serie non faccio pass indietro secondo me Denver dovrebbe passare i Pacers sono passati con i Bucks e quindi c'è un bellissimo Pacers-Knicks dal profumo anni 90 ma che meraviglia che meraviglia c'è una Pacers-Knicks e poi vabbè Celtics-Cavaliers che comunque è una bella serie ma no guarda sono dei super playoff sono dei super playoff amiche e amici questo è il momento di sintonizzarsi sul League Pass e di guardarsi l'NBA anche su Sky e seguire l'NBA di Sky Italia ci mancherebbe altro salutiamo le amiche e gli amici di Sky salutiamo Flavio tranquillo quando vuoi venire ospite assolutamente ma anche Peter Colnew non so se c'è ancora Pietro Colnago non so se fa il basket e a me è molto colpito che Andrew Schulz comico che conosciamo lo salutiamo tu lo conosci anche di persona aspetta un messaggino Andrew congratulation me myself I did teatro lirico many times sì ma not so many to feel forse sì sono 20.000 posti allora forse due Madison Square Garden no lui ha fatto due Madison Square Garden e di New York ci teneva tantissimo li stravende con mesi di anticipo perché così si fa quando fai 20.000 persone e cosa succede che i Knicks devono vincere gara 6 perché se non vincono gara 6 dei playoff lui deve spostare una data e qui ti chiedo e lui ha fatto un video dove sorrideva ma si vedeva che era attesissimo dicendo speriamo che i suoi Knicks sì lui ti fa Knicks infatti ha fatto il video di lui con suo padre a Madison Square Garden dice papà ti ricordi ho detto voglio fare lo spettacolo a Madison Square Garden bello bello leggimento americano un pelo americano però bello però tu ti immagini tu e tuo padre a San Siro quando fai lo spettacolo a San Siro papà ti avevo detto no no che a San Siro al forum mio padre viene vestito come se dovesse giocare all'Olimpia ha concesso il completino di Dino Meneghin e l'ho completo allora dimmi dimmi e rimbalza no ma papà ti volevo dire un'altra cosa mentre tu fai lo spettacolo lui sta a giocare c'è questo fade away che non lo tiene nessuno e sa fa sta cazzo di cosa e la domanda è facciamo finta che noi abbiamo venduto appunto questo tipo di post sì su chi su chi cioè dov'è che sarà è difficilissima da tradurre la domanda per noi perché sì basket a Roma a Milano l'Olimpia è straimportante c'è ancora la Roma non esiste no la Virtus non esiste più adesso si chiama non mi ricordo più su diciamo che fai uno spicchio sì dell'Olimpico di San Siro cioè eh no ma non è paragonabile perché non avviene le serie allora ti dico una cosa che adesso me l'ero tenuta dentro di me ma non sono più psicologo dello sport voglio io vorrei fare a un certo punto la curva sud cioè se la carriera va benissimo a un certo punto fai uno spettacolo che economicamente penso inutile cioè nel senso affittare la curva sud all'estero e tutto per quanto puoi mettere i biglietti però fai lo spettacolo per la sud che ultimo ce l'ha fatto un concerto prima di fare gli stadi interi ce l'ha fatto il concerto per la sud a volte si fanno i concerti solo per la curva però conoscendo l'organizzazione romana te fai tipo ah eh e poi alla fine te la chittano sotto la nord dicendo vabbè la curva vale l'alto scusate tutto questo l'avevo fatto per quella cosa vabbè le curve sono uguali però la fatta credo l'abbia fatta qualche comico la virtus Roma esiste forse Battista l'ha fatta comunque è una cosa si 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 può fare si può fare la sud mi piacerebbe farlo perché la sud si presta secondo me per esempio le curve di San Siro che sono a due piani cazzo ti vedo esatto non si può fare ma no ma tiratevi i bandieroni con la tua faccia seduti seduti oh mi hai mai la dire in faccia seduti no no San Siro a me piace che sia quando sono andato a vedere i concerti a San Siro ero sempre lì mi sembrava che fossero arrivati non so che è il tuo barbecue sono venuti i parenti a usarlo era strano posto il fatto che mi sa che l'acustica negli stadi italiani i musicisti non sono mai entusiasti chissà i comici allora io ci ho visto il concerto di De Gregori e Venditti in platea all'Olimpico è stata una delle note più belle della mia vita ok quindi non sono mai stato all'Olimpico io ce ne sentivo benissimo ci ho visto anche Tiziano Ferro è la pista d'Atletico che aiuta per l'audio però guarda con il campo pieno di persone che cantano scherzavo si supera la pista d'Atletico quando tutti fanno Sara se avessi soldi ti porterei a far l'amore guarda quello ti giuro ti viene la pelle d'oca perché senti tutte voci di donna 80.000 voci di donna che cantano Sara svegliati è primavera quello si mi sa che sentire oggi il Dallara con Cesare Cremonini che canta le sue sirene oggi vado fuori di testa suono un ritmo di samba lo vogliamo in aereo se vai in Europa e cosa stiamo ah beh hai parlato di pelle d'oca e di donne che cantano le emozioni io non posso non pensare alla Formula 1 a Miami a Miami la Formula 1 dimmi dimmi no non cazzo da dire se vuoi ti dico tutte le note dimmi tutto mi scrive ogni settimana e io non ci capisco una minchia di niente c'è questo mega scandale in America perché i team della Formula 1 non hanno permesso al team di Andretti di entrare in Formula 1 perché adesso il mercato numero 1 della Formula 1 è l'America grazie a Netflix e non gli hanno permesso di entrare hanno fatto cartello per tenere gli americani fuori come andrà a finire questa storia che cazzo me ne frega e intanto mi sono dimenticato di dire una cosa onore alle ragazze perché la Roma femminile è bicampione d'Italia campione d'Italia l'anno scorso campione d'Italia quest'anno e questo è importante dirlo ieri sono venute sotto la sud le ragazze a prendersi l'applauso della curva sud a fine primo tempo la Roma femminile è campione d'Italia due volte speriamo che ci si trovi fra campioni e campionesse in una a fare tipo super coppa super coppissima vediamo come va a finire vediamo chi è più forte vediamo chi è più forte fra l'Inter maschi e le donne Roma Roma 4 a 0 cambia il mondo cambia tutto 4 a 1 perché tu ram la mette tu ram la mette invece ti do anche un altro aggiornamento da Luca Cinti che salutiamo in questo weekend antenne drizzate perché c'è il word strongest man dopo un'infinità di tempo c'è anche un italiano quindi seguiranno aggiornamento molto molto bene e a proposito di mondo poi non parlavamo di NBA e tutto quanto sai che una delle cose che amo di più è vedere le foto a bordo campo della superstar e chiederti sempre come andresti vestito so che ormai la tua risposta è sempre uguale così come sei vestito come mi resto tutti i giorni nella mia vita uno delle persone più famose del mondo e grande appassionato di basket è l'amico Drake certo che adesso è impegnato in un dissing esattamente a questo voleva arrivare con Kendrick Lamar con J. Cole sì un altro che non so chi sia oppure ecco con chi con chi sarebbe interessante vedere questo beef nel mondo dello sport a questo livello c'è due che si odiano così oggi non abbiamo neanche Messi e Cristiano hanno mai avuto cioè chi sarebbe no perché erano i tifosi a odiarsi così tanto loro allora loro diciamo sempre no non ci odiamo però in realtà era una competizione vera cioè Messi e Cristiano Ronaldo si nutrivano della garra che l'altro gli suscitava infatti non lo so perché Alcaraz e Sinner si vogliono tantissimo si vogliono bene eh non c'è cioè Danfris e Teo Hernandez che però posso dire sono due terzini con tutto il rispetto sti cazzi ma non è sti cazzi a figurati per noi no certo però capito non è che sono capito che voglio dire Lautaro e Leao che sono i terzini ci sono le categorie certo ci importa di delle cose più di altre non forse non siamo più fatti con questo tipo di faide assassine non c'è più che Mbappé e Haaland sti cazzi no ma poi figurati a loro che gliene frega no ma quella cosa non c'è no forse ecco ti direi tra chi vorresti un dissing così nel mondo della stand up italiana fauro e fauro e montanini povero fauro cioè ci posso dire onestamente tra l'altro ieri montanini io volevo andare al teatro a vedere montanini dai di la risposta che ti hanno dato no che era sold out ho scritto ho scritto al management dicendo ma ci sono dei biglietti omaggi hanno detto no guarda abbiamo finito anche gli omaggi io pure mi sono svegliato tardi pensavo che non sarei stato a Roma mi hanno detto vieni fuori il teatro che che qualcuno che non entra poi il biglietto te lo fa saltare fuori biglietti esatto devo cercare il bagarino per il brancaccio mi sembra troppo però curioso sarei curioso di vedere il ritorno di Giorgio Montanini se così si può chiamare the comeback kid beh sì però ieri ieri non sono riuscito sono andato a vedere Roma Juve con la mia bella le clip sono molto belle dello spettacolo se vi capita e potete andate a vederlo ci sono ancora un bel po' di spettacoli comici belli in giro per l'Italia non il mio perché ho finito ce l'hai un po' di blues di fine tour blue moon sì ma voglia sì sì beh per forza anche perché hai spinto parecchio a tratti troppo 62 date sì quando dovevamo fare tutta roba fresca con te Stefano vi ho detto non riesco perché sarebbe la tipo quattordicesima data di fila in 16 giorni in tipo 12 cittadini sì too much è stato bellissimo sono molto contento di aver finito pensavo che sarei stato super triste sul palco invece ero molto concentrato perché è stato lavoro e l'ultima è fatto Milano sì questo tour nella mia testa è stato a parte organizzato molto meglio ho fatto tante cose meglio come è giusto che sia quando cresci però molto professionale l'ultima non ero commosso ero contento di aver finito ma ho finito bene due giorni dopo mi è esploso il cuore completamente e sono proprio mi è venuta una tristezza atomica ma ci sta e l'ho frenata ascoltando i jamboy con i miei amici a Modena e mio fratello che mi guardavano dicendo smetti di fare il coglione però in realtà dentro stavo morendo ma jamboy live? ma no pensavo che erano un concerto di jamboy ho detto mamma mia che questo è veramente il colpo da maestro sarebbe stato bello sono un po' depresso vado a sentire jamboy a Modena no però ho risentito quell'album dell'internettezza urbana del 2002 mi ha ricordato che quando avevo 14 anni le canzoni le sapevamo tutti a memoria e è stato quello mi ha un po' ripigliato da lì mi sono ieri meno anche aiuta adesso ti dico tre whisky sour oiii ci sta ogni tanto ci sta io ieri allo stadio zero alcolici consumati e come è stato? bellissimo perché vabbè c'avevo pure un muretto davanti su cui poggiare la coca cola ho detto ma che favola Romolo tirata qua la maglietta è vero che però quando impari a bere allo stadio cambia tutto cambia tutto è come andare in serata cioè nel senso quando vado con i ragazzi mi sono fatto dei giovedì sera vado fuori di te però quando invece vai allo stadio e non bevi non bevi ma la partita è molto tesa è quella del massimo quello è bellissimo io so ero molto preoccupato per te per finire il tour e dico cazzo Luca dovrà cambiare vestiti via il cappello via la felpa perché lo vedo sempre vestito con quelle due cose invece ancora oggi il cappellino Red Sox perché stiamo registrando il lunedì e quindi questi sono vestiti il Monday è certo scherzo è che avevo i capelli sporchi come al solito piuttosto che farmi dire oh pazzo di merda lavati i capelli stai facendo il giusto alla chitarra di nuovo sul dente sul dente marcio che mi sta tornando perché porca troia se non usi filo interdentale tutti i giorni e quando sei in tour tutti i giorni è complicato nessuno guarda nessuno sa il filo interdentale tutti i giorni neanche i dentisti è un blef oh usatelo tutti i giorni lo usi una volta a settimana e boom anche fumare e bere 50 caffè al giorno mi sa che non aiuta probabilmente no per questo vince la maratona in 1.59 così ti passano capito un espresso un cappuccino di soia mio cugino che è svedese ha chiuso ieri la maratona in 2.40 non male ma come 2.40 31 anni ma 2.40 tra l'altro è il suo compleanno tipo domani e diventa papà fra un mese 2.40 è un tempo della madonna è antidoping che hanno fatto sapere ma è svedese forse quella roba l'hai mai provato no non l'hai provato mi hanno detto che ti brucia la gengiva la gengiva sì no no è terribile che schifo qualcosa che ti brucia metterti sulle gengive qualcosa che te le brucia no 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 solo sigarette esatto e sì quindi no ti spacca ma tu tra l'altro da quanto cazzo sei in tour con questo spettacolo no è infinito però adesso stiamo diluendo rimane Trento perché adesso ho fatto Pordenone Trieste Trieste non c'era mai stato una città non c'era mai stata una città più belle del mondo bellissima peccato irraggiungibile sono pazzi sì sono pazzi perché sono lì cioè che è proprio un posto che però bellissima bellissima città bellissimo pubblico avevo questa doppietta Pordenone Trieste ma nell'altro podcast che non nomineremo però mi ricordavo di avere Trieste e Trento e quindi dicevo tutto il tempo oh vengo a Trento e Trieste vengo a Trento e invece era Trieste e Pordenone e quindi ho mentito ai ragazzi di Trento e quindi poi ho parlato con l'agenzia e ho detto vi prego mettiamo una data a Trento perché ho detto in tre puntate oh vengo a Trento vengo a Trento mi hanno scritto oh quando escono i biglietti di Trento al Capitol sempre bellissimo io ci andai il giorno dopo che era iniziata la guerra in Ucraina mi hanno detto ti vassi mettiamo la bandiera dell'Ucraina per iniziare e io ho detto no perché ti fu put no scatti mi hanno detto certo e quindi vado vado a Trento non mi ricordo che giorno biglietti disponibili su San Daniela Tinti per non parlare dei biglietti ormai non più disponibili su Luca Ravenna Gol no no l'unica cosa è sicuramente faremo un giro in Europa io pure devo fare il giro in Europa a settembre e ottobre e poi ho chiuso il tuo anche tu ci vediamo in Europa non credo che andremo negli stessi posti no ma certo il problema è non andare nella stessa città lo stesso giorno saremmo proprio dei fenomeni che facciamo in due posti vicini facciamo la cosa però sì io più o meno a settembre e ottobre devo fare il giretto europeo e poi in pacchetto lo spettacolo io non so se impacchettarlo prima e fare una cosa diversa a settembre e ottobre leggermente diversa cioè ci sto pensando no io faccio sicuramente questo ci stiamo dicendo queste cose per la prima volta non è che ne abbiamo parlato esatto lo registro lo registro prima però non lo faccio uscire in Europa faccio questo e poi lo farò uscire ottobre e novembre non lo so però in questo momento amici di Trento andate a vedere Daniela Trento ci sono veramente un botto di belli spettacoli Leazzaro adesso droppa 20 dati eppure Leazzaro io non ci sono mai quando pure l'altra volta era a Roma non ero non sono ancora riuscito a vedere Leazzaro mi sento di fare questa investitura il Kevin Hart italiano per i numeri che fa e anche per il tipo di comicità molto figa che fa lo dico a malinquare Max Angioni sta facendo dei numeri che pare che sia numeri pazzeschi eppure Max Pelé in tournée in Europa non riesco io non riesco a vedere nessun cazzo spettacolo adesso pure De Carlo al Brancaccio non posso andarci che due coglioni no poi ci sono tutti vabbè diciamo no e poi adesso c'è Propaganda Live che è aperto alla stand up ci è andato Salvo Di Paola ci è andata Benedetta Orlando che tra l'altro si è difesa Salvo non l'avevo visto Benedetta è impeccabile secondo me non facile fare stand up a propaganda infatti quando mi erano proposte ho sempre detto no stand up lì ma in generale la stand up in tv apriamo questo piccolo tanto ormai vediamo anche questi cazzo questo piccolo questa cosa di fare la stand up in tv ogni volta che si prova è molto difficile per non essere i motivi il programma magari c'è il pubblico un po' di figuranti una questione anche di abitudine a farlo noi non siamo americani sì ma anche del pubblico un'abitudine del pubblico presente in studio sì sì i pochi minuti pochissimi minuti di disposizione che è anche giusto e poi secondo me tipo propaganda c'è la cosa che è un problema italiano nella stand up figurata in televisione le risate si sentono poco ah certo perché non pensano di registrare il pubblico perché non è così importante la risata del pubblico in propaganda invece nella stand up è importantissima quindi le risatine che le persone si fanno durante le premesse del monologo non si sentono si sentono solo le risate e gli applausi questo per la stand up è deleterio e poi secondo me la stand up in tv la puoi fare se stai facendo tanta stand up non il tuo spettacolo perché il tuo spettacolo non conta come fare stand up conta come fare il tuo spettacolo cioè se stai scrivendo tanto provando le serate dove fare 5 minuti anche io non ho fatto stand up non è che sei caldissimo sul tuo spettacolo però 10 minuti col pubblico che deve andare all'arrembaggio quelli te li devi un po' ti devi preparare in quell'ottica quindi ancora non c'è non saprei dire quale sia il contenitore giusto o non ne ho ancora visto uno però è bellissimo che propaganda abbia aperto e secondo me più continuerà a farlo più le persone ci arriveranno concentrate per fare quello ecco amiche amici di propaganda bisogna registrare cioè bisogna prendere di più le serate del pubblico bisogna prendere più le serate del pubblico se non altro per la stand up comedy quello ma vediamo se anche altri programmi si apriranno adesso non diciamo niente non diciamo nulla lo scopriremo nelle prossime puntate Antenna Sport tutte le settimane stiamo dimenticando qualche sport sicuramente sì ma il bello di registrare un'altra settimana è che la settimana prossima possiamo recuperare tutto torniamo settimana prossima torniamo noi torniamo a sei nazionali torniamo noi c'è tutto l'avvicinamento agli europei insomma la lotta scudetto la fine la fine delle coppe europee moto mondiale la formula 1 c'è tantissimo di cui parlare il tennis l'internazionale adesso al di là delle battute la prossima puntata la stagione della terra rossa saremo andati l'internazionale a vederli e forza Sonego forza Matteo Berrettini forza Musetti forza Arnaldi forza ragazzi della pattuglia italiana che comunque mi hanno dei giocatori fortissimi io spero e dico Matteo Berrettini fa un bel torneo fa un bel torneo noi saremo là a tifare per lui veramente in modo surreale Matteo Berrettini all'internazionale lo vediamo con i mortai speriamo bandieroni in campo e si gioca adesso il ritorno quindi bocca al lupo ai tifosi della Roma della Fiorentina e dell'Atalanta sì dai settimana prossima ci saranno tante cose di cui parlare ciao a tutte ciao a tutti ci vediamo settimana prossima ciao Daniele Gia 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 gia